Ragazzi buonasera, sono Leonardo Rizzi dall'House Lab, la mia house lab e vi presento il Lucanian Quick Up per la challenge di Fib che voglio ringraziare, in particolar modo a Polo d'amore, Antonio e poi abbiamo spazio per i ringraziamenti. Il drink è visto sul mito, quindi partiamo dal principio solo con una bella botta di Lucania, infatti utilizzerò come prima scelta il Vermouth Cavaliere, prodotto Lucano, 45 ml, continuiamo con Witter Campari, 30 ml, e per dare una bella nota balsamica continuiamo con un altro prodotto Lucano, ossia l'amaro Lucano Anniversario, un 15 ml. Utilizzerò il Throwing come tecnica per cercare di estrarre il massimo attraverso l'ossigenazione, con un ghiaccio che ho messo prima a mitigare. Grazie. 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 vorrei concludere con i ringraziamenti a tutti i ragazzi e tutti gli amici che hanno contribuito alla caccia di questo posto, ai ragazzi del barbershop, a Fede, a Mr. Brown, un abbraccione soprattutto a Joy e a Matteo che mi hanno fatto conoscere anche un sacco di gente, tutti i ragazzi di Roma che ho conosciuto, a tutti gli amici che spero di incontrare sia qui allo slab che anche nei bar. La decorazione è un corallo fatto con l'amaro rucano.